Non solo allenamenti su strada e in pista come è avvenuto nei giorni scorsi, per gli atleti della Nazionale di Mountain Bike e il loro commissario tecnico c'è anche da ricoprire il ruolo di ambasciatori di questa disciplina molto diffusa nel nord Italia ma che a Barletta in occasione del raduno che si concluderà con una gara domenica mattina a Castel del Monte ha permesso di scoprire le bellezze del territorio. Da proteggere e valorizzare anche attraverso la pratica della mountain bike come ha spiegato il commissario tecnico Martello, ospite del convegno su sport e ambiente ospitato nella Sala Rossa del Castello Svevo. Appuntamento intermedio tra preparazione e gara voluto dalla delegazione del CONIBAT e rivolto agli alunni del liceo scientifico Caffiero di Barletta dove nel prossimo anno scolastico sarà introdotto anche l'indirizzo sportivo ed è proprio alle generazioni future che si chiede di conciliare la pratica dello sport con la difesa dell'ambiente. Colliamo anche l'occasione per promuovere non solo il territorio ma diciamo un'educazione a rispetto del territorio che passa ovviamente attraverso anche la cura dell'ambiente. La disciplina della mountain bike si presta molto a questo tipo di azione quindi siamo ben contenti di dare un messaggio educativo.